L'etica della cosa, una cosa non naturalmente creata, ha in sé il costume e la consuetudine di chi l'ha prodotta. Per questo la responsabilità individuale del quotidiano diventa argomento corale di una società che non può altrimenti definirsi tale. Le scelte culturali di una comunità e di suoi cittadini si misurano sul raggio di lungimiranza insido dell'osservazione e della definizione del presente. Lo sguardo superficiale a un tempo breve genera cultura che dura poco, consumistica, una cultura usa e getta. La riflessione sul futuro è un doveroso disegno di vita. Lo sguardo di un artista o di un autore che applica una trasformazione creativa di una cosa è ciò che può svelare la strada a cecchi viaggiatori erranti. L'analisi intellettuale di un artista si basa spesso sulla verità di concetti e dogmi che altri rifiutano, talvolta disprezzano quanto meno non considerano. La funzione di comunicatori del sociale è devoluta e consacrata alla loro sensibilità. L'impazzita economia patologica ha un antidoto infallibile nel genio creativo umano. La nostra casa comune va tutelata attraverso scelte culturali che sono la portata di tutti. Basta un minimo di conoscenza o semplicemente un'attenzione. Ogni individuo è protagonista delle proprie azioni e le azioni senza coscienza non sono specificatamente umane. Se ogni individuo ha un'essenza, essa appare in ogni singola azione e se l'azione genera una cosa, l'essenza stessa trasla nella cosa. La cosa quindi ha un'essenza, o meglio, un'entità. Non dobbiamo assolutamente creare questo tipo di città. La nostra città è composta da cose e da uomini e da persone. Questa è la città. Io a marzo ho proposto al comune di Albano un evento dal nome L'etica di una cosa e esattamente si è svolto in un bellissimo posto che è l'ex chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove abbiamo composto una pregiorni molto dinamica. Ho diretto questo evento con un carattere espositivo e performativo, nonché di laboratori e dibattiti sull'ambiente attraverso l'arte, l'artigianato, il design, gli ornamenti da indosso. Quindi attraverso la creatività umana, il passaggio attraverso gli artisti sulla riflessione ambientale e cittadina. Perché no? Cittadina. Gli autori partecipanti a questo evento artistico ambientale erano degli artisti di arte contemporanea, quindi attivisive. Lui si chiama Alessandro Nicola ed è uno scultore. Tutti loro partecipavano con delle creazioni, con delle opere, assolutamente tutte composte con materiale di disciclo. qui Alessandro Nicola, uno scultore, ancora un altro scultore, purtroppo la foto è un po' scura, quindi non si vede molto bene, comunque un altro scultore che riesce con dei rottami, si chiama Alessio David, riesce con dei rottami a conforre delle forme di stato classicistico estremamente gammato. Andiamo un po' davanti. In arte caracol, Eleonora Battaggia è una creatrice venta che ha partecipato con questi suoi ornamenti da indosso e bijoux. Abbiamo allestito un altare intero dedicato a lei, ai suoi anelli, alle sue collane e alla sua cinta, questa era una cinta composta ovviamente esclusivamente con dei pezzi di stoffa da riciclo. Andiamo ancora avanti. Le ecocentriche sono due creative, due designer, a livello contemporaneo che lavorano tra Roma e Castelli Romani, hanno i loro studi e compongono i loro oggetti di design con il cartone principalmente, quindi con il cartone creano questa poltrona, come state vedendo. Andiamo avanti. Evasiva sono tre ragazze giovanissime, una grafica, una designer, una delle arti visive, una creativa, che si sono unite per creare dei bijoux con dei materiali vari. in questo caso sono una collana composta da palloncini gonfiati. Andiamo ancora avanti. Francesca Lapignola, lei è una creativa, una restauratrice, una persona che ha fatto comunque l'Accademia delle Arti e ha scoperto un materiale, la cartapesta, che ne è molto consono e quindi sviluppa delle figurine microscopiche. Questa è una serie che si chiama Teatrini ed è piccolissimo, quindi sono delle cose estremamente delicate, estremamente aggraziate. Andiamo ancora avanti. Lui è Francesco Varesano, queste erano delle lettere composte con un materiale creato da scarti di cartone e di gesso insieme, poi amalgamate, quindi un lavoro estremamente complesso. Andiamo avanti. Gino Casavecchia, un designer, aveva allestito qui un particolare dei suoi piatti in pietra, aveva allestito un'ultima cena all'interno di una cappella dell'ex chiesa di Santa Maria delle Grazie, con questi piatti, questa tavola apparecchiata, con questi piatti, utilizzando della pietra approvata in strade in natura. Raffaella Riccio è una stilista che compone i suoi abiti con materiale di riciclo, principalmente la plastica, questa regale rappresentazione di donna, è vestita con dei sacchetti dell'immunizia, tutto il suo vestito è appunto qualcosa che contrastava molto con l'evento, con l'arte alta, con l'estetica, con la bella arte, e quindi la scelta di metterla proprio anche nel manifesto, nel catalogo che prima abbiamo passato. Andiamo ancora avanti, Paolo Viterbini, un artista locale, e lui anche si produce soprattutto con dei cartoni, oltre a dipingere, compone queste visioni cittadine, tra l'altro, quindi parte dallo skyline cittadino, alcuni sconci cittadini, per poi creare, andare a comporre dei particolari. Andiamo avanti. Umberto Romagnoli è un fotografo di Albano che si è occupato di un bel progetto di cui ha fatto meravigliose fotografie e video sul nostro lago urbano e quindi un po' quello che è avvenuto a queste rocce, a queste rocce che fino a pochi anni fa si trovavano sotto il livello delle acque del lago e adesso sono uscite in ruoli, quindi è qualcosa che aveva a che fare con il nostro argomento. Andiamo avanti. Noi abbiamo fatto dei dibattiti sull'ambiente, abbiamo fatto dei lavoratori per i bambini creativi con materiale di ciclo, abbiamo giocato un po' con il mercatino del baratto a fare un po' i mercati nel tempio, forse era una cosa un po' fuori norma e poi io ho presentato una performance su Joseph Horis, un artista tedesco definito, che ha impostato la sua arte attraverso se stesso e attraverso la natura e l'ambiente. Quindi una opera, una sua opera, si chiamava proprio La Rivoluzione Siamo Noi, quindi il contesto unico delle nostre idee e soprattutto della nostra creatività che riesce a comporre, a creare una linea di società, di vita, di comunità, che è senz'altro migliore. In questa performance, andiamo avanti, avevo Ero Joseph Beuys, e quindi avevo il suo immagabile cappello di feltro, stavo fatto delle perdi romanze che Joseph Beuys ha presentato in più occasioni e avevo anche La Natura in me, quindi quel trucco, quel ramo di fiore, di cilieggio, non so cosa perché bianco, è una, diciamo, ispirazione concettuale per rafforzare questo rapporto che è un rapporto unico. Quindi noi come individui siamo unici, le nostre idee sono uniche, la nostra creatività è unica, quindi andando a cercare tutto questo si compone una vita, una società che è proprio lo specchio di quello che noi siamo. Più sensibilità artistica, più creatività c'è e più si compone una società migliore, più si compongono cose migliori. La città è composta da cose e da uomini, quindi se noi riusciamo a rafforzare questi due concetti, a credere su questi due concetti, abbiamo vinto la nostra città. L'ultima diapositiva si riferisce a questa frase molto significativa che disse Joseph Beuys prima di morire, quindi questa fiamma, questa fiamma che abbiamo dentro non dobbiamo mai farla spegnere, dobbiamo sempre alimentarla, la fiamma è la nostra individualità, la nostra voglia di essere unici, ma all'interno e composti da una comunità. Grazie.